E' Notria un pezzo che ho voluto dedicare alla nostra terra, perché mi sento con la presa e sono orgoglioso, per le origini soprattutto, ma anche per il nostro modo di essere, ospitali, accoglienti, decisi e creativi. Naturalmente sentirete delle citazioni che fanno parte del nostro costume, della nostra tradizione e sentirete pure quei ritmi, sapendo, inserito, vedete quando si vedono, forse qui non molto, ma nel Vibonese, nella provincia di Regno, nelle feste va in giro la banda, ma la banda è formata da rullante, casse e piatti, perché quella era la strada in passato. Questa è rimasta, questa tradizione, nelle nostre terre e spesso accompagnano questi giganti con quel ritmo, questo ritmo lo troverete in Enotria. Buon ascolto a dirigere, maestro Giancarlo Guiglione, osposo. Grazie. 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 Grazie.